Il gruppo Arbanesiminti Andiamo a fare un video tutto? Ciao, buonasera 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 Questi due ragazzi hanno avuto una tragedia con il terremoto E lui ha volato dal terzo piano e lui dal quinto piano E io andai in ospedale e gli dissi ma come hai fatto? E lui mi disse ma io amo Cristiano Ronaldo e ho volato Poi gli dissi ma cosa vuoi? Vuoi una maglia di Cristiano Ronaldo? E' bello Ponte di ispirazione Vi ringrazio molto perchè veramente loro sono Ma sono fratelli? No non sono fratelli, loro vivevano nello stesso palazzo Hanno avuto una tragedia ma hanno perso il palazzo Certo, certo Sono veramente Bene Se può servire Abbiamo una maglia Si adesso arriva tutto Solo che sono due, loro viaggiavano sul pullman davanti quindi siete arrivati prima E quanti anni hanno? Lui è nella seconda, sa vi c'è di danni fisso Sette anni e lui è nella quinta Dieci Dieci anni Ok ok E l'incidente quando è successo? Nella notte del 26 di novembre Non si sono fatti niente E' stato tremendo abbiamo avuto 51 morti Si si Tutto terremoto no? Terremoto tremendo Si Sembra vero il tiro Lui ha gli occhi di Verratti Si 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 Ma non gioca la palla Eh Lucia Gioca la palla Eh Lucia Gioca la palla Eh Lucia Gioca la palla Ma è un po' La palla La palla La palla La palla La palla Eccoci qua Buonasera Eccoci qua Flavi Flavi Si Flavi Si Si No anche solo io eh Gigi uguale Io uguale Anche tu Non gli piace C'è una dubbia Anche Gigi eh Voilà Si Questa La do Lui è Una Adesso Ecco qua Il suo nome è Aurel Aspetta Aurel Mi piace filmare eh Si Un altro nome? Eh Alessio Grazie Grazie mille Cristiano Perché Non è solo per loro Ma È Molto È Molto È È Molto È Un È 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 Grazie mille, molto bello, grazie. Grazie. Grazie mille, ci conosciamo, domani avete una partita tosse, gli dice che sarà difficile, ma noi vinceremo comunque.